La vicenda del Ponte del Vinci è tornata in Consiglio Comunale, c'è stata anche una interpellanza e poi delle firme dei cittadini della zona che chiedevano di ripristinare il passaggio ma anche la sistemazione della strada risistemando l'asfalto. Come amministrazione su questo fronte come vi state muovendo, che risposte date? Sì, in effetti ieri c'è stata un'interpellanza a cui abbiamo puntualmente risposto e abbiamo dato tutte le informazioni che ci sono state richieste. In buona sostanza il guado è stato chiuso su indicazione del Genio Civile, il quale ci ha tolto sostanzialmente l'autorizzazione, però il Genio Civile si è dimostrato anche disponibile a concederci una nuova autorizzazione anche per un guado e non per un ponte, perché il ponte non saremmo in grado di farlo in quanto costa oltre 1.200.000 euro, mentre un nuovo guado con circa 100.000 euro potrebbe essere messo in opera. Il Genio Civile si è reso disponibile a darci l'autorizzazione per un nuovo guado, naturalmente con delle tecniche costruttive diverse da quello, più in sicurezza. Si tratterebbe di scatolari quadrati alti circa 2,50 m. Però nel frattempo, per dare una risposta immediata ai cittadini, abbiamo riasfaltato completamente tutta via della buca e nei prossimi giorni speriamo di poter fare un intervento anche in via del Falzerone, almeno parziale. Ad oggi non ci sono famiglie isolate e tutti possono tranquillamente andare a casa con l'automobile, ma la questione è che non si può esaurire in questo modo, perché quel ponticino rispondeva anche alle problematiche dello zoo, che nei giorni in cui viene particolarmente visitato effettivamente crea un problema alla circolazione non indifferente. Quindi siamo impegnati a cercare le risorse e nei prossimi giorni faremo anche un incontro con i cittadini, chiederemo se anche tra di loro c'è la possibilità di trovare qualche contributo, interpelleremo anche la regione toscana per capire se nelle emergenze del maltempo, nei fondi per le emergenze del maltempo, ci fosse rimasto qualcosa anche per noi per intervenire su quel ponte, e poi il resto ce lo metterà il Comune di Pistoia. Siamo convinti che se c'è un impegno da parte di tutti, un po' di disponibilità da parte di tutti, diciamo che nell'anno 2020 si potrebbe riaprire il guadro.